Un nuovo consigliere regionale, Leonardo D'Addazio, è entrato in consiglio a posto di Guerino Testa in quota Fratelli d'Italia. Si tratta del primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia, ovviamente. Con nelle tasche la grande esperienza da sindacalista e le tante battaglie condotte per il territorio, D'Addazio si inserisce bene in una macchina in corsa in un anno strategico, nel quale si realizzeranno molti progetti per la regione Abruzzo. Di certo potrà ben rappresentare le istanze dell'area vestine delle sue economie, ma non solo, D'Addazio è pronto a sostenere l'Abruzzo ed a impegnarsi affinché questo governo regionale sia riconfermato alle prossime elezioni. Guarderemo con maggior attenzione l'area vestina, ma anche tutto il resto della regione ci mancherebbe altro. In qualità di consigliere regionale non posso limitare la mia azione solo all'area vestina. È ovvio che arrivo da questo territorio, che è un territorio che magari qualche volta ha avuto dei problemi e dobbiamo cercare in qualsiasi modo di dare un punto di riferimento a tutti i cittadini di quell'area e quindi c'è un'occasione più unica che rara, perché ormai un consigliere regionale in quell'area manca da quasi 20 anni, quindi è un'occasione importante. Io ce la metterò tutta, massimo impegno, massima disponibilità ai confronti di tutti i cittadini. Entra in una macchina in corsa ma già rodata, sarà un anno di grandi progetti per la regione, insomma è pronto? È una macchina sicuramente già rodata, che va già benissimo, io sinceramente sono dell'avviso che in questo anno dovrò correre perché l'intenzione è ovviamente quella di ricandidarsi e riconfermarsi, quindi ho tutto l'interesse di lavorare bene per farmi confermare dai cittadini abruzzesi.